Questo è il mio sogno Serie B Eurobet Appassionati Sicuramente mi aspettavo di più Inizialmente anche se abbiamo fatto benino ma timidi, timidamente, con paura, con titubanze Che mi aspettavo no Che sul punto personale che avrei fatto fatica Da riprendere la forma fisica Non me l'aspettavo e sono consapevole Che sarebbe stata una partita molto tosta e dura da giocare E me l'aspettavo perché comunque il Varese è una squadra Che comunque ogni anno sta lì E si sta giocando i playoff per andare in Serie A Bisogna alzare la testa Perché se sia la terza Già ci mettiamo la testa sotto la terra Non siamo giocati Che Kids Già ci mettiamo la testa sotto la terra Che bassa